Il costume da bagno è destinato a rimanere nel cassetto ancora per qualche giorno. Dovrebbero rimanere sole e desolate le spiagge delle Marche per il resto della settimana. Tutta colpa di un'area di bassa pressione che insiste sull'area del Mediterraneo, stretta tra due zone di alta pressione, quella dell'Atlantico e della Russia. Le nuvole non migrano verso Levante, ma restano intrappolate in un cielo tutt'altro che estivo, dalla costa all'entroterra. Le giornate più piovose, mercoledì e sabato, dice il meteorologo della protezione civile delle Marche. Per il resto della settimana avremo ancora una situazione di stabilità atmosferica, quindi delle giornate caratterizzate ancora da cieli regolarmente nuvolose, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale. Nelle giornate di mercoledì e sabato invece assisteremo proprio ad un transito di strutture nuvolose che determineranno un cielo nuvoloso o molto nuvoloso e precipitazioni che dalle zone interne tenderanno ad estendersi poi su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda le temperature, attualmente siamo sotto la media, come è facile appunto percepire, tenderanno ad aumentare gradualmente nel corso dei prossimi giorni per riportarsi verso il fine settimana ai valori normali del periodo. Si può sperare in un miglioramento da lunedì prossimo? Da lunedì sembra che l'espansione verso Levante dell'anticicrone dell'Azzorre tenderà appunto a favorire un miglioramento sul bacino del Mediterraneo e anche sulla nostra regione. Sarà un miglioramento comunque graduale.